Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, momento di grandissima, enorme, sconfinata, infinita riflessione, ognuno col suo metro, quindi iscrivetevi al canale, mettete un bel like al video, commentatelo e scampanellate per essere raggiunti e raggiunte ovunque voi siate. Il metro, Mirko Nicolino, è pronto ma so che lo hai già riposto nel cassetto perché ormai non si capisce più quale sia il metro, caro Mirko. Ciao Claudio, è un caro saluto alle sorelle e ai fratelli bianconeri, mi pare che sia ormai evidente che ci siano un'infinità di metri, ieri sera abbiamo assistito alla Supercoppa italiana e già dopo 6-7 minuti erano stati utilizzati 3-4 metri diversi, C'è un giocatore che commette tre falli da giallo e non ne prende nemmeno uno e poi viene ammonito addirittura al settantesimo, mi pare, non ricordo. Poi è il primo fallo di un giocatore del Napoli, che tra l'altro era un normale fallo di gioco, scatta subito l'ammunizione. Così è davvero difficile andare a giustificare... No Mirko, mi scivoli subito sulla buccia, ma come è difficile. Io ero a vedere la partita con un rappresentante del mondo arbitrale, uno che frequenta le riunioni tecniche, arbitrali, e a un certo punto gli ho detto, scusa ma il famoso metro di giudizio dell'OpenVar? Dice, eh no, è stato bravo l'arbitro, perché a seconda dei momenti della partita deve calarsi in quel momento, quindi all'inizio non ammonisce perché non c'è bisogno, poi quando... hai capito come te la girano? Sì, hanno sempre ragione, però a me non risulta che in nessun regolamento ci sia scritto che se tu commetti un fallo d'ammunizione al primo minuto tu non debba essere ammonito e al settantesimo sì. I momenti della partita sono anche determinati dagli arbitri. Vogliamo ricordare quello Juve-Sampdoria con Conte in panchina, con la Sampdoria che in inferiorità numerica commette un ulteriore fallo da rosso e ci viene detto sì, però tanto ormai la Juve era in controllo, poi fa doppietto ai cardi e in controllo una ceppa, scusate. Il famoso controllo ceppato, certo. Sì, perché le partite non si sa mai come vanno a finire, c'è un altro rosso, tu intanto dammelo, non guardare il risultato, non guardare che la partita è in controllo, c'è questa cosa che gli arbitri decidono anche in base al momento della partita. I momenti della partita, e questo c'è scritto sul manuale, che si studia quando si fanno i corsi, sai quanti momenti ci sono in una partita? Migliaia. Cioè, in una partita le situazioni di gioco cambiano in continuazione, addirittura in un minuto possono esserci 15-20 situazioni di gioco diverse, e quindi tu dovresti adattare un metro arbitrale a migliaia di situazioni. No, il metro arbitrale è uno, tu applichi il regolamento e finisce lì, perché se tu continui a interpretare in base ad una miriade di variabili e non se ne esce più, e poi il tifoso medio, giustamente, non riesce a capire perché viene espulso Simeone e c'è la no glue. No. E come glielo spieghiamo? Glielo spieghiamo poi dicendo che è stato un furto come quello del 2012. No, glielo spieghiamo con la diversità di racconto, perché se tu vai a ripresa... Allora, diciamo che a Napoli stanno migliorando, perché a Pechino non si presentarono alla previazione del secondo posto, stavolta non si è presentato solo Mazzarri. La squadra è andata, quindi diciamo che fanno dei piccolissimi passi, e adesso magari impareranno anche come si fa quando si perde, però va bene, non è che possiamo pretendere il massimo, piano piano ci arriveranno. Ma il passo mediatico e quindi il diverso metro di racconto, anche questa volta, lo spiega ai tifosi. Cioè, anche ieri, naturalmente, in una giornata in cui la Juve non c'entra un bel niente, i rivoltosi dei social hanno scritto «Dopo Pechino l'ennesimo furto». Peccato che a Pechino 2012, sui giornali ci fu appunto, l'hanno deciso a loro, gli arbitri, e oggi a pagina 22-23 c'è magari un De Laurentiis che parla un po' con Rocchi, che ci spiega come dovrebbe essere il mondo. Però garbatamente. Che non se la prende. Sì, bello garbato. Bello garbato, sereno, tranquillo. Peccato che la differenza sostanziale, che è a Pechino, ma la gente non se lo ricorda perché l'hanno spacciata come furto, dopo cinque minuti doveva prendersi il rosso giocatore del Napoli per fallaccio clamoroso su Giovinco. è che tutte le decisioni arbitrali dell'epoca, lo dimostrano poi i fatti nel tempo, furono corrette ad andare fino a Pander, che fu espulso perché per ammissione, lo dico per la gente che non sa e non ricorda, per ammissione del suo stesso procuratore, disse che andò dal guardaline a dirgli «gobbo di M». Glielo vuoi tirare un rosso a uno che al guardaline ti dice «gobbo di M» o no? E invece sono state fatte passare tutte come invenzioni arbitrali per cui la Juve ha furfanteggiato la Supercoppa, mentre ieri dobbiamo parlare di come revisionare il sistema calcio. Bello, no? Fantastico, fantastico. Lo sappiamo, uno dei problemi grossi di questa nazione è la narrazione e non voglio aprire qui un qualcosa di grosso che meriterebbe intere puntate, giornate intere. Però hai visto, Claudio, come continuano a trattare il caso Fagioli? Cioè con il ragazzo che viene subito braccato mentre va ad un evento che dovrebbe essere privato e dovrebbe avere un certo contegno e invece degli altri non si è più saputo nulla. Degli altri non si è più saputo nulla. Quell'inchiesta che doveva coinvolgere 60-80 giocatori «adesso vedrete, stiamo indagando» non si sa più nulla. Non si sa più nulla. Non si sa più nulla. Ma scusa, ma non sai? Ma c'era la fretta. Posso fare il metro sospettoso? Posso fare il metro sospettoso? Il metro sospettoso, sì, bello. Il metro sospettoso mi porto oramai alla mia da essere un po' sospettoso. Ma non è che una volta fermato il giocatore della Juve non si sa più nulla perché magari avresti, non lo so, chiedo, avresti dovuto fermare altri giocatori. E ridurre il campionato ad una Serie B o ad una primavera. Perché attenzione, attenzione, caro il mio Mirko Nicolino che tu la butti lì così, la tocchi piano come se fosse una cosa qualunque. Ma io ci metto in parallelo anche Pogba perché forse anche qua come Pechino e oggi la gente poi si dimenticherà non sappiamo come finirà adesso ci arriviamo sulla lotta a Scudetto ma la gente si dimenticherà che in questo momento del campionato con la Juve punto a punto alla Juve mancano due giocatori fondamentali perché sono i due giocatori di qualità del centrocampo uno faccio lì come dico sempre sono i nostri giocatori più tecnici e l'altro è Pogba e ancora ad oggi non è stato squalificato è nel limbo è sospeso e non si sa più niente Sì, ma questa questa è una cosa allora sappiamo che oggi ci sarà un'inchiesta delle Iene no? Stasera Ah, stiamo registrando mentre c'è un'inchiesta delle Iene Sì, sì, sì sugli arbitri Ma che cosa è? È quella trasmissione televisiva Ah, un programma scusa, non guardo la televisione ogni tanto ogni tanto però la vera questione la vera questione è la giustizia sportiva l'anno scorso Palomino viene sospeso per sei mesi in attesa di giudizio salta i mondiali salta sei mesi di campionato e poi viene assolto perché perché non aveva fatto nulla perché aveva preso un farmaco regolare e come è stata risarcita l'Atalanta e come è stato risarcito un calciatore che probabilmente un mondiale non lo giocherà mai più in nessun modo e questa è una cosa normale ora, noi non sappiamo come andrà a finire il caso Pogba ma è normale che Pogba e la Juventus senza alcuna condanna sportiva non possano svolgere regolarmente il loro lavoro cioè, è assurda cioè, ma ce l'ha spiegato sarebbe un po' scusa, sarebbe un po' come inchiestare, indagare, sentenziare e punire la Juventus rovinandogli un campionato intero e la Champions successiva per delle plusvalenze che abbiamo scoperto ma non ci voleva un genio a capirlo che insomma le fanno tutte le squadre allo stesso maniera anzi c'è chi le ha fatte in maniera più, diciamo, irregolare perché comunque è saltato fuori parlò che il Napoli ha avuto un sudetto vinto col capo cannoniere che è stato oggetto di una plusvalenza non fittizia irreale perché ci sono 20 milioni di giocatori giovani che mai sono andati a Lille ora, dopo un anno che finalmente una procura si è degnata di far sapere al mondo che questa cosa non eravamo noi dei pazzi a raccontarla ma esiste ci sono stati due titoli sui giornali e il giorno dopo è scomparso il problema sì, sì, sì hai notato? la cosa bellissima che già dal giorno dopo il problema scomparso non esiste il caso Simen per curiosità perché cioè ma uno che avesse fatto a De Laurenti su una domandina mentre si lamentava dei sistemi del mondo e si vestiva d'arabo un giornalista che gli avesse chiesto scusi presidente come si pone nei confronti della plusvalenza Simen visto che è indagato per farsi un bilancio mentre ad Allegri arrivava una domanda a ogni conferenza stampa ad Allegri che era l'allenatore e l'altra parte in causa tra l'altro gli facevano fare mentre gli toglievano e gli ridavano dei punti delle conferenze in cui gli parlavano delle plusvalenze ma poi Claudio noi sappiamo ne abbiamo viste di ogni e lo sappiamo però la Juventus viene riaperto il filone plusvalenze dopo due ore Chinè riapre fascicolo processo sportivo eccetera è oltre una settimana che chi ne ha ricevuto i faldoni della giustizia ordinaria su Osimene quando partono i deferimenti quando viene aperto il nuovo procedimento sportivo che facciamo aspettiamo che arrivi la prescrizione di nuovo Jessamy in ritardo di sei mesi perché c'è stato un supplemento di indagine da parte della procura di Napoli che poi non era più competente territorialmente e ha ceduto il faldone a Roma e qui si rischia che il caso Osimene vada in prescrizione no ma qui non si rischia niente perché non hai visto i titoli cosa rischia a Napoli e a Bico non li ho ancora visti eh vabbè l'ho fatto io l'ho fatto io però l'abbè l'hai fatto tu Birko ma tu non mi titoli il giornale però capito c'è questa piccola differenza però tutto quello come dico sempre io a tutti tutto quello che noi singolarmente possiamo fare è un mattoncino per uno porta fuori la verità poi se qualcuno la vuole vedere è un conto se non la vuole vedere un altro paio di maniche ma noi intanto lottiamo per portare sempre a galla la verità ah tra l'altro non ti sarà sfuggito così guarda chiudiamo questo questo bel ragionamento che ieri i festeggiamenti della Supercoppa cioè questo oggetto del desiderio della Supercoppa no? che sai quando non c'era il presidente dell'Inter diciamo noi licenziamo l'allenatore quando avviamo con gli altri una grande competizione ma questa Supercoppa è stata donata per i festeggiamenti direttamente alla curva agli Ultras ah sì bellissimo bel momento bel momento altra inchiesta indagine che la Juve è stata portata al tribunale come vittima tra l'altro sembrava colpevole mentre le altre squadre consegnano alla curva la Coppa che sarebbe oggetto di un'indagine ben più seria ma non se ne sa nulla che poi tra l'altro anche la curva dell'Inter sappiamo per le indiscrezioni giornalistiche venute fuori in questi ultimi giorni che è sotto inchiesta è sotto inchiesta è per cose ben più pesanti di quello che abbiamo letto nell'inchiesta Last Banner però questo è un apparenzio sai cosa volevo sottolineare volevo ricordare che è stata la prima finale dell'Inter dell'era Zhang il cui il presidente non era presente e che ha fatto solo ha fatto solo una videoconferenza prima della partita per incitare i giocatori prima volta come mai non si presenta più cosa è successo? non lo so non è sparito ha impegni di lavoro ha impegni di lavoro poi che ci siano 15 procedimenti 5 negli Stati Uniti 3 a Hong Kong 4 a Milano perché deve dei soldi ma ci sono veramente? eh ci sono quando io lo dico mi dicono che invento le cose eh ci sono 15 procedimenti aperti contro contro Zhang perché ricordiamo questa cosa molti molti dicono 15 procedimenti aperti come lo trattavano no ma perché poi la gente dice ah ma non è ancora stato condannato no attenzione Zhang è stato condannato in Cina a risarcire i suoi creditori quindi lui è debitore di 300 milioni di euro ora si sta cercando di capire dove ha i suoi patrimoni perché li devono attaccare devono recuperare risulta indigente nulla facendo risulta indigente addirittura addirittura risulta dopo una una delibera del CdA dell'Inter risulta che Zhang è presidente dell'Inter a costo zero e quindi non possono attaccarlo in nessun modo e allora qual è il rischio? e il rischio mi domando io non è che forse se esce di casa gli prendono anche quella 500 con cui l'abbiamo visto andare in giro per le vie di Milano capisci? vabbè fa come noi ma fa smart working eh sì esatto fa il digital lavora da casa io te ho il video e lui fa il video stessa c'ha la sua bella stanzetta con con l'iPad ma noi Mirko Mirko ma noi stiamo stiamo ridendo perché siamo delle persone Agnelli pensa Agnelli nella stessa situazione noi stiamo ridendo perché siamo delle persone a differenza dei nostri avversari di campionato dotati di grande ironia quindi sulle battute dobbiamo ridere invece che arrabbiarci noi stiamo ridendo ma stiamo raccontando uno scenario che è così non è è veritiero è questo questo che non racconta nessuno che non racconta nessuno capisci perché poi alla fine la Supercoppa è l'ultimo esempio Supercoppa Juve che vince 4-2 con Napoli decisione degli abiti correttissime anzi furto Supercoppa con loro la curva la Coppa Zaghi va dal videomessaggio Inzaghi che è quello che vince di più questi trofei Napoli che non si lamenta come ha fatto con la Juve ma il presidente fa le conferenze in cui ci spiega cosa bisogna fare in Arabia questa è la differenza perché la nostra vita e quindi anche quella sportiva non è quella che viviamo e giochiamo è quella che ci raccontano è così e allora noi oggi cosa vogliamo raccontare che non abbiamo il paraocchi noi non siamo il paraocchi noi ci vediamo molto bene come la vediamo questa Mirko io ti dico subito io non so più come affrontare la nostra situazione parlo ovviamente della Juve perché io ero abituato al cortomuso cioè io su sta cosa che nel 2024 abbiamo fatto 18 gol presi due che vinciano 3-0 cioè non mi sta bene ma sai è bello questa questa cosa che noi siamo siamo un cavallo senza paraocchi e non ci spaventiamo quando nemmeno quando sorpassiamo ecco no? ci troviamo di fianco il cavallo un cavallo molto più veloce del nostro però non ci spaventiamo e questo questo è un segnale strano un segnale strano perché sono curioso ora di vedere come saranno gestite le prossime settimane perché tu sai già la certezza è l'allenatore che ha vinto e che infatti può permettersi di fare le battute anzi io lo candiderei a un remake di amici miei a questo punto a Lega perché secondo me sarebbe meraviglioso e il direttore tecnico che comunque con il Carpi dalla D alla A ha compiuto un'impresa vincente e poi a Napoli comunque ha vinto qualcosa che vincono una volta ogni di 33 anni quindi nonostante l'inesperienza dei giocatori noi alla guida abbiamo quel tipo di certezza qui è per quello che Allegri cioè Allegri manda dei segnali poi alla squadra quando parla cioè dice noi non siamo il cavallo che si spaventa se ce l'abbiamo uno vicino tranquilli esatto esatto in questo hai fatto bene a citarlo è stato fondamentale Cristiano Giuntoli quando la Juventus aveva deciso di prenderlo c'era proprio questa necessità di inserire alla Continanza una persona di capo che sapesse di tutto perché l'abbiamo detto l'altra volta nella scorsa puntata Giuntoli decide anche la pendenza dei canali di scolo dei campi intorno dove si allena la squadra è competente di architettura di ingegneria di preparazione atletica di tattica si ferma con i giocatori ad ogni allenamento prima e dopo sa quando deve dire una parola in più o quando deve dirne una in meno e hai detto niente dopo una stagione in cui Massimiliano Allegri ha dovuto fare allenatore segretario presidente avvocato difensore componente del CDA cioè ragazzi questa è la differenza adesso la Juventus è una società ben strutturata con persone competenti in ogni ambito nell'area sport sto dicendo e quindi i risultati si vedono e sta overperformando un gruppo che ricordiamo non è mai perché ieri sera dopo la Supercoppa ho risentito di nuovo che l'Inter adesso farà fatica in campionato perché la Juve ha meno partite da oggi alla fine del campionato stanti così le cose la Juventus e l'Inter giocheranno lo stesso numero di partite lo stesso e loro sono usciti dalla Coppa Italia e noi facciamo le due semifinali e loro fanno i due ottavi di Champions questo è il numero delle partite è lo stesso con la differenza che lo abbiamo visto anche ieri sera l'Inter ha due squadre la Juventus se non ha Rabiot o gioca Miretti o gioca Nicolussi Caviglia o gioca Cambiasso adattato perché non ne abbiamo perché non ne abbiamo perché siamo abbiamo una rosa corta una rosa che ci è stata accorciata come dicevamo prima in maniera alquanto discutibile dei due centrocampisti più tecnici in assoluto che abbiamo che sono Pogba e Fagioli e noi li abbiamo sostituiti e con ogni probabilità non li sostituiremo quindi questo significa overperformare e fare un mezzo miracolo sportivo e fare 300 vittorie in Serie A lo sappiamo non è una cosa banale non è una cosa banale e tu dicevi Claudio adesso segniamo e adesso segniamo e improvvisamente ah ma prima non giocavamo così ah ma prima non creavamo azioni da gol poi vai a vedere i dati fino alla quindicesima giornata e la Juventus era con l'Inter la squadra che aveva più XG e più occasioni da gol siamo sempre lì dipende come la racconti e dipende come la racconti ho discusso anche ieri sera ma scusate ragazzi ma fatemi capire cioè l'allenatore Allegri il direttore è sempre quello di questa estate è giunto il preparatore atletico è lo stesso e improvvisamente Vlaovic segna i gol e prima non insegnava cos'è successo cosa mi sono perso in questi ultimi dieci giorni ma scusami Claudio lo ha detto semplicemente lo stesso Vlaovic prima non stavo bene e ora sto bene e quante volte qui io ti ho detto Claudio pubalgia e lombalgia e io le ho avute per tre anni non ti consentono di giocare a calcio ma si vede da come si vede da come stoppa il pallone dallo stop da come stoppa il pallone si vede prima era un disastro e adesso non ne sbaglia più uno anzi apre ha fatto uno stop da 60 metri l'altra volta che era qualcosa di delizioso a volte è molto più semplice di quello che sembra esatto quindi scusa adesso che cos'è improvvisamente la rivincita di Allegri e se vince con l'Eppoli mille punti e 300 vittorie in Serie A le 400 panchine adesso improvvisamente il mondo ha riscoperto che Allegri è un allenatore così vabbè sai come funziona no poi in queste cose c'è chi si riposiziona no c'è chi invece per continuare a tifare le proprie idee e dice che c'è stato qualcuno si è imposto giuntoli ha imposto un cambio di tattica c'è Magnanelli che incide di più c'è questo c'è quest'altro ragazzi come dicevi tu Claudio le cose spesso sono molto più semplici di questi tanti discorsi arzigovolati che andiamo a fare ci sono momenti della stagione questo è un momento in cui per fortuna e dico per fortuna perché all'inizio non sembrava potesse svilupparsi così la stagione però c'è una cosa importantissima la Juventus quest'anno ha fatto degli accorgimenti alla preparazione atletica e li ha fatti folletti nessun altro perché Andreini è stato relegato a a Vinovo per il settore giovanile e stanno funzionando tanto è vero che guardate io vi invito a guardare i recuperi che fa la Juventus quando scappa verso la propria porta l'altra sera con lei ci abbiamo perso due palloni sanguinosi abbiamo recuperato con una velocità incredibile siamo subito ripartiti la Juve è ben allenata molto ben preparata e attenzione non significa niente non avere le coppe perché altrimenti vi potrei dire come mai Udinese Salernitana hanno 300 infortuni dall'inizio della stagione ad oggi hanno solo il campionato quindi questo poi poi ce lo devono spiegare poi si dimentica tutto Folletti è sempre quello di prima è quello del cacciato atletico sempre infortunati è come la barzelletta dei campi umidi di Vinovo che poi improvvisamente mamma mia quanto è durata quella storia siamo avanti che il problema erano i campi umidi di Vinovo per cui la gente si infortunava erano troppo morbidi fa parte tutto del racconto senti in chiusura te ne vorrei raccontare una carina che forse è sfuggita e più perché mi hanno detto eh no ma poi perché adesso l'Inter con la Supercoppa ha avuto i gialli e le squalifiche e le diffide insomma va a Firenze senza Cialanoglu e Barella e giocano contro la Juve ma come ti amo quando sei nel mio pensiero attenzione scusami ma tu vai a Firenze senza gioca a frattesi ma se tu andavi con i due Cialanoglu e Barella a Firenze che è una trasferta infuocata e difficile con due diffidati e magari poteva essere che il giallo lo potevi prendere lì mi saltavi il derby d'Italia e invece no attenzione Claudio perché Cialanoglu con un giallo scusami Cialanoglu era già squalificato per Firenze ok quindi con era solo era diffidato gli è bastato un giallo e se avesse preso il rosso dopo il giallo prendendo due giornate di squalifica eh capisci eh ma non lo sapremo mai perché il rosso non gli è arrivato capisci capisci a me capisci a me Mirko Nicolino questo è il fantastico è il fantastico mondo in cui si cambiano i regolamenti a competizione in corso e poi ci lamentiamo ci lamentiamo perché gli investitori stranieri non credono nel calcio italiano e vogliamo giocare all'estero un'intera giornata così vedremo ad esempio a Riad Empoli-Lecce con lo stadio deserto però abbiamo esportato il brand ci hanno detto ieri sera però avremmo fatto una operazione una grande operazione di marketing una grande operazione infatti il minuto di silenzio all'intervallo per ricordare Gigi Riva senza sapere che nella cultura araba il minuto di silenzio per ricordare i morti è vissuto con fastidio infatti sono arrivati i fischi geni del marketing Mirko io ti ringrazio e te la butto lì così ci pensi ci rifletti in vista della prossima settimana vai ha detto da zona che vogliono mettere la body cam la telecamera sull'arbitro wow ha detto che c'è voglia di questa cosa i giovani vogliono vedere la visuale dell'arbitro le sue decisioni ma col microfono acceso o spento perché poi c'è un problema questo non lo so perché adesso ho parlato di telecamera perché noi sentiamo gli audio dopo una settimana e filtrati filtrati attenzione caffè col filtro sì sono filtrati perché spesso sono tagliati iniziano iniziano quando decidono loro e spesso non vengono non finiscono quando finisce come il frame fuori gioco frame buono frame finto solo che quando lo dicevamo noi non accettate la regola adesso sul frame c'è la discussione allora adesso facciamo come i sequel to be continued ragazzi alla prossima puntata alla prossima audio filtrati grazie Mirko alla prossima ragazzi iscrivetevi al canale like al video commenti e campanelle